Sicuramente la mare in bocca c'è perché quando riesci ad andare in vantaggio devi gestire meglio la situazione. Noi invece secondo me lì sono tornati i vecchi fantasmi, diciamo così, perché su una palla che avevamo noi abbiamo preso una ripartenza, abbiamo preso questo calcio d'angolo dove poi è arrivato il rigore. Nel primo tempo non siamo partiti benissimo onestamente, i primi dieci minuti loro meglio di noi, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto bene dove abbiamo avuto due o tre occasioni per fare gol, due occasioni da quello che ho visto io abbastanza clamorose. Poi quando non fai gol logicamente la fatica si fa sentire, però nel secondo tempo abbiamo preso questo rigore, siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata l'espulsione di Speranza che un pochettino i piani li ha scombussolati perché poi anche se abbiamo avuto anche un'altra mezza occasione con Ilari quando è stato bravo il portiere di Gregorio del Renate dove ha fatto una grossa parata ma poi abbiamo rischiato alla fine di prendere il gol del 2 a 1. Quindi un grosso rammarico perché i ragazzi e tutti insieme volevamo vincere questa partita, si erano allenati molto bene. Purtroppo non abbiamo vinto ma questo vuol dire che dobbiamo fare i punti da qualche altra parte. Sicuramente dobbiamo pensare a una partita alla volta e pensare ad andare a San Benedetto a fare la partita della vita perché per noi i punti sono importantissimi e quindi dobbiamo cercare di fare il risultato anche a San Benedetto. Ma non lo so, io penso che poi domenica sarà una partita dove tutti vogliono fare il risultato perché poi è un derby e quindi la San Mettese indipendentemente sia perso o se avesse vinto avrebbe fatto la partita per vincere. Quindi a noi cambia poco, noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa un risultato positivo. In questo momento non mi sembrava neanche giusto buttare la croce addosso a Ivan perché ha fatto un errore, lo so anche lui ha chiesto scusa e quindi dispiace soprattutto perché poi domenica non ce l'hai.